Il robot da Vinci che usiamo principalmente per la cura del tumore della prostata. Un tipo di chirurgia molto molto evoluta e che consente di ridurre al minimo le complicanze post-operatorie sia a breve tempo tipo il sanguinamento, l'emorragia, ma anche complicanze definitivo tipo l'incontinenza e l'impotenza. Fino a poco tempo fa l'operazione chirurgica alla prostata rischiava di creare al paziente molte complicanze post-operatorie. Ora la tecnologia consente all'uomo di preservare le proprie funzioni. Essenziale comunque è arrivare in tempo facendo prevenzione. Il controllo andrebbe fatto annualmente e a partire dai 50 anni di età se non c'è familiarità, ma se c'è familiarità anche a 45 anni già un PSA, una visita urologica va fatta. Ma quali sono i sintomi di un problema alla prostata? Purtroppo per il tumore della prostata è spesso asintomatico. Si può associare a dei disturbi minzionali legati all'ingrossamento benigno della prostata. Quindi qualsiasi disturbo che proviene dalla prostata, cioè disturbi a urinare, urinare spesso, urinare con fatica, alzarsi di notte più volte, vanno comunque riferiti al medico di base e il medico di base valuterà se fare una visita specialistica oppure no. Piccoli accorgimenti ai quali il paziente è sempre più attento grazie anche all'attuazione di campagne di prevenzione come quelle dell'Apio. Noi dobbiamo semplicemente cercare di informare nel modo più corretto possibile le persone a prendersi cura di sé e anche a prendersi cura degli altri e dell'ambiente dove si vive. Importante è avere uno stile di vita corretto e attento. Attraverso la sana alimentazione, attraverso il movimento, attraverso cioè tutto quello che riguarda la prevenzione primaria. Nel Trevigiano, durante il mese della prevenzione del tumore alla prostata, è stato organizzato un incontro in collaborazione con la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastiera e l'amministrazione comunale di Mogliano Veneto. Noi siamo particolarmente attenti e abbiamo patrocinato questo evento perché ci teniamo a sensibilizzare i nostri cittadini per la prevenzione oncologica.